Noi contiamo di avere anche una forte presenza, l'obiettivo del 20% è un obiettivo che abbiamo e contiamo anche sull'azione di Silvio Berlusconi e sul riferimento ai moderati perché intendiamo occupare quello spazio politico che, ripeto, non è uno spazio politico che deve essere occupato per avere più posti in Parlamento, è uno spazio politico che deve essere occupato per incarnare i valori che i moderati e centristi in Italia hanno, quindi non si può un giorno essere di sinistra, poi un giorno dopo di centro, è una questione di serietà.